Ciao amici, sono Nicola Procopio e vi volevo salutare tutti gli amici di Voci.fm io sono qui, come vedete, in diretta quasi sulla radio Fuori dal Coro, Radio Roccella che la trovate sul sito www.radioroccella.it e trovate soprattutto il mio programma che si chiama Radiografia Show quest'anno decennale del programma con tanta musica, attualità, informazione fuori dal coro e interviste sempre di un certo tipo quindi mi raccomando ascoltatemi e che dire, grazie davvero agli amici di Voci.fm un saluto da Nicola Procopio e a presto Voci.fm, il sito delle voci